Nessuno ovviamente intende né minimizzare né disconoscere i meriti delle persone per le quali oggi si chiede l'intitolazione di un luogo di Roma. Sono persone che hanno onorato ognuna nel loro settore, nel loro campo, non solo il loro paese, ma la cultura, la cultura l'uno e l'impegno sociale l'altra. Quindi il fatto di opporsi a una intitolazione di una strada forse vuole sottolineare ulteriormente l'importanza di queste persone perché credo che una collaborazione per trovare altre forme di riconoscimento, ripeto, io l'ho buttata lì, poi ha ragione la consigliera, la collega Zotta, quando dice vi rivolgete sempre alle scuole. Ecco, ma forse intitolare una scuola, forse intitolare un istituto, forse ha più significato. Ecco, lavoriamo per questo. Io veramente, tutta la mia collaborazione, però rispettiamo l'identità della nostra città e non escludo ovviamente che si possa, in una zona nuova della città, un disegno che voglia ricordare alcune personalità perché si sono distinte per alcuni settori, per alcune loro attività. Ma questi interventi spot forse fanno bene soltanto a chi li propone. Perdonatemi. Grazie.